ciao ragazzi come sapete mia mamma oggi è pop it e meriterati tutti ma oggi io ne ho comprati dei nuovi e questi non ce li farà ritirare c'è ancora e 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 cosa hai portato qui dentro? niente dai indovino la borsa piena di pop it no no non c'è niente scanarizzo con il mio nuovo scanner trova pop it va bene ma tengo io borsa va bene questa volta puoi andare grazie ciao 0-1, mamma. Adesso devo nascondere questi pupit. E questo lascia me. Stai studiando? Sì, certo. Prova. Mia mamma si è dimenticata che io già da un mese fa ho finito i compiti. Adesso posso schiacciare il mio ultimo pupit. Spero che questo coso colorato non è un pupit. No, è un biscotto. Vedi? Anch'io voglio provare. E questo? Buono, buono. Un po' agomodo. Sono da vecchio. Sì. Certo che è molto gommoso. È un pupit. Guardate, si schiaccia. Devo andare dalla mia amica Liliana. Ma prima devo controllare tutti i miei pupit. Qua non c'è pupit. Aspetta, aspetta. E anche qua c'è. Magari io ne scosti da qualche altra parte. Vabbè, li troverò quando ritornerò dalla mia amica Liliana. Ferma. Torna indietro. Secondo te, non mi sono accorta che tu hai finito il compito un mese fa? E che il tuo pupit è di gomma? Se vuoi riprendere tutti i tuoi pupit, ho un compito per te. Visto che sono incinta, devi fare il mio assistente per 24 ore. Ragazzi, se vi siete persi il video di ieri, cliccate qui. E se volete vedere altri miei video divertenti, cliccate qui. Ciao e intanto vado a valutare la proposta di mia mamma.